E' stato dissequestrato il nuovo ospedale di Ragusa su disposizione del Gip Andrea Reale che ha motivato la propria decisione con il difetto dei presupposti di legge. Si tiene intanto Samani per chiedere la nomina di un commissario. Con l'operazione Illegal Dati la polizia di Chetene ha smantellato un gruppo mafioso dedito a istorsioni, atti intimidatori, rapine e spaccio. I soldati del gruppo ricevevano ordine da Giuseppe Scarvaglieri che sebbene fosse detenuto gestiva tutti gli affari. Predisposto dall'amministrazione comune di Ragusa un nuovo disciplinare per la ripartizione dei consumi idrici delle utenze condominiali e sull'erogazione idrica a Vittoria i cittadini fanno fronte comune sostenendo la protesta dell'imprenditrice Roberta Giulia a mezzo a Salma. Lo zecchino d'oro fa tappa a scicla al convento del Rosario dove ieri si è tenuta una delle tre tappe di selezione per il concorso Canolo. Ancora bentrovati a MTG. Lo avete sentito dai titoli in apertura parliamo ancora del nuovo ospedale di Ragusa il Giovanni Paolo II perché ieri pomeriggio il giudice per le indagini preliminari Andrele Reale ha disposto il dissequestro di alcune sale operatorie che erano state sottoposte appunto a un sequestro da parte delle fiamme gialle un paio di settimane fa. Il giudice per le indagini preliminari ha motivato la propria motivazione con il difetto dei presupposti di legge. Intanto stamani davanti alla sede dell'ASP 7 di Ragusa si timo per chiedere la nomina di un commissario che gestisca il trasferimento dai vecchi ospedali al nuovo promosso dalla CGL. Ce ne parla Carmela Minardo. Difetto dei presupposti di legge. Con questa motivazione il giudice per le indagini preliminari Andrea Reale ha disposto il dissequestro del nuovo ospedale di Ragusa. Il provvedimento depositato nella tarda mattinata di oggi consente il completamento della struttura che dovrebbe essere operativa il prossimo 21 luglio quando verrà consegnata ai vigili del fuoco la scia. Un provvedimento necessario ed urgente per sbloccare il caos in cui era piombata la sanità e iblea. Le sale operatorie infatti non erano più disponibili al civile per il mancato trasferimento bloccato dall'indagine della Guardia di Finanza. Oggi il Tribunale ha deciso di togliere i sigilli. Nominare un commissario ad acta per gestire il trasferimento dei due ospedali il civile e il Maria Paterno Arezzo al nuovo ospedale di Ragusa Giovanni Paolo II. Per dare forza a questa richiesta la CGL è scesa in piazza con un sit-in qui davanti alla sede dell'Aspe in piazza Igea. Accanto a loro anche le forze politiche della città. Noi abbiamo titolato questa nostra iniziativa come caos nella sanità e iblea perché abbiamo gli ospedali vecchi di Ragusa che sono dimezzati nelle loro funzioni e nelle loro prestazioni sanitarie. Quello nuovo non funziona. E poi molte attività sanitarie, molti interventi anche di tipo chirurgico, soprattutto le emergenze, sono tutte estornate negli ospedali di Modica e di Vittoria indasando lì anche il lavoro ordinario, tenendo conto che poi siamo nel periodo estivo tutto questo si moltiplica. E sui presunti casi di malasanità il segretario Scifo ci va con i piedi di piombo. Non abbiamo ovviamente elementi di certezza, la nostra preoccupazione è di sì ma su questa cosa però non vorremmo né strumentalizzare né tanto meno utilizzare una vicenda che ha già comportato tanto dolore per i nostri fini. Temiamo che però il rischio sia grande da questo punto di vista. In piazza anche cittadini sordomute a cui è stato spiegato attraverso il linguaggio dei segni i motivi della protesta. Presenti anche un gruppo di precari della manutenzione a cui è stata negata la stabilizzazione in favore di appalti esterni. Sono uno dei precari dell'Asp, siamo qua, ci stiamo associando a questa manifestazione per chiedere i nostri diritti che noi ci hanno negati da tre anni. il direttore generale ha deciso di non farci lavorare più. E c'è chi ha voluto emulare il manager a Ricò immortalato nei giorni scorsi mentre consegnava una rosa ad una paziente. In questo caso però il gesto non è stato gradito. Dura la reazione del personale dell'azienda sanitaria. La Commissione Sanità al Senato ha approvato nei giorni scorsi un emendamento al decreto legge sui vaccini che va oggi in aula a Palazzo Madama sul potenziamento delle funzioni dei consultori familiari per quanto riguarda la diffusione delle informazioni sulle disposizioni del decreto Lorenzin. L'emendamento con prima firmata era la senatrice Venerina Padua punta a un obiettivo ben preciso potenziare la rete sanitaria legata ai servizi territoriali. Credo da sempre, ha dichiarato la senatrice Padua, nel ruolo anche informativo dei consultori ed è per questo che con riferimento al provvedimento ho cercato attraverso l'emendamento di esaltarne ancora di più la funzionalità. Adesso apriamo la pagina dedicata alla cronaca perché con l'operazione Illegal Dati la polizia di Catania insieme con quella di Adrano ha smantellato un gruppo mafioso dedito a estorsioni, attimi intimidatori, rapine e spaccio. I sodali del gruppo avevano degli ordini da Giuseppe Scarvaglieri che sebbene fosse detenuto continuava a impartire ordini. Operava tra Adrano e Paternò il gruppo mafioso smantellato questa mattina alla squadra mobile di Catania e dal commissariato di Adrano. 39 le ordinanze di custodia cautelare in carcere per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso con l'aggravante di essere l'associazione armata, associazione per delinquere finalizzata al traffico e sostanze sulle facenti, detenzione e spaccio delle stesse, tentato omicidio, estorsione, rapina, furto e ricettazione nonché reati in materia di armi e danneggiamento seguito da incendio. Con l'aggravante aver commesso il fatto, il nome per conto è l'associazione di tipo mafioso denominata clan Nascalisi e al fine di agevolarne le attività illecite. A gestire il clan nonostante fosse in carcere era Giuseppe Scarvaglieri. Come riferito da uno dei collaboratori di giustizia, Scarvaglieri era l'autorità suprema conosciuto come Pippo Zoppo. Il boss infatti manteneva la corrispondenza con Alfredo Mannino fornendo indicazioni e direttive sullo sodelizio. Due anni di indagine attestano che continua a guidare il gruppo un soggetto già detenuto quale Scarvaglieri Giuseppe che dal carcere riesce a comunicare fuori dando i propri ordini nominando i propri proconsoli e imponendo quindi un'attività illecita che vada alle estorsioni, alle rapine, al traffico di droga a tutto il paese di Adrano. Nelle intercettazioni è emerso che il gruppo criminale manteneva un non capillare o controllo del territorio di Adrano dove la famiglia sottoponeva sistematicamente a estorsione e la gran parte delle attività commerciali compreso il mercato ortofrutticolo all'interno nel quale non solo ogni titolare di box era tenuto a pagare una somma mensile ma doveva versare un dazio per accedere, per scaricare la merce o acquistare all'ingrosso. Chi si rifiutava subiva incendie alle proprie attività. Per aumentare il giro d'affari si era trovata una tregua dopo un lungo periodo di aperta conflittualità anche tra le consorterie Scalisi e Sant'Angelo Taccuni. Queste organizzazioni tradizionalmente sempre contrapposte tra di loro nell'ambito delle estorsioni del mercato ortofrutticolo si dividevano al 50% le piazze. Per quanto riguarda la droga addirittura il clan Scalisi che fa parte come voi sapete al clan Laudani acquistava droga dal clan Sant'Angelo che invece è il referente della famiglia Santa Paola di Cosa Nostra a Catania. Una maxirissa è stata sedata nel corso della notte dai carabinieri e dalla polizia a Scoglitti è proprio avvenuta in un bar di fronte alla caserma dei militari dell'arma. Cinque gli arresti. Si spostano da un bar all'altro per bere in compagnia, poi si azzuffano per aver alzato troppo il gomito. Successivamente vengono trasferiti in ospedale, poi si ritrovano con le manette ai polsi con l'accusa di risaggravate lesioni personali. Una allite furibonde per futili motivi come si nota dal video amatoriale è scoppiata a Scoglitti intorno alla mezzanotte in via Cavour, proprio davanti alla stazione dei carabinieri. La polizia e i militari hanno arrestato quattro vittoriesi, un marocchino Davide Cultraro, 21 nel fratello Alex di 19, Giovanni Denina di 20, Giuseppe Gionone Giorgio Massimiliano di 21 e il marocchino Znai Bernabil di 23. Questi ultimi due già denunciati dalla polizia di Vittoria nel 2013 per aver partecipato una rissa. Condotti in ospedale, guariranno in dieci giorni. I medici hanno riscontrato lesioni all'arcata sopraccigliare, trauma a toraci, cuo e al ginocchio. Gli investigatori hanno acquisito e visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza e raccolto le dichiarazioni di alcuni testimoni per ricostruire la dinamica della rissa. I fratelli Davide e Alex Cultraro erano già conosciuti dalla polizia. Due settimane fa erano rimasti coinvolti in gravi disordini avvenuti nella sesta piazza a Scoglitti dove era scoppiata una rissa con un terzo giovane il quale aveva anche tentato di investirli con l'auto. Scene che hanno intimorito i presenti pensando si trattasse di un attentato considerato che il veicolo si è avventato contro i tavolini di un locale pubblico al centro della piazza. Il conducente dell'autovettura era stato identificato e denunciato per tentato omicidio. I due fratelli Cultraro erano poi stati individuati dalla polizia e denunciati per danneggiamento e una terza persona per favoreggiamento personale. È previsto al porto di Pozzalo domani alle 8.30 lo sbarco di 482 migranti salvati sul canale di Sicilia dalla nave della guardia costiera Peluso. Gli immigrati viaggiavano su quattro gommoni e sono stati salvati nel corso di distinte operazioni. Non sono stati segnalati casi sanitari gravi. La polizia stradale di Ragusa in un mese ha riscontrato 8 infrazioni commesse nella città Iblea anche a Comiso in danni diversamente abili. Ed è stato accertato che 8 soggetti utilizzavano abusivamente dei parcheggi destinati alle persone con disabilità. I controlli da parte della stradale sono stati avviati dopo una direttiva emanata dalla prefetta Maria Carmela Libriza a seguito di una segnalazione da parte di un'associazione di tutela di persone disabili. Ai proprietari delle vetture è stata contestata una sanzione di 85 euro, la decurtazione di due punti della patente e la rimozione del veicolo. La giustificazione adotta da alcuni proprietari delle auto erano in alcuni casi di non aver visto il cartello e in altri che avevano lasciato la vettura nel posto invalidi per un veloce e caffè. I controlli proseguiranno anche in altri comuni della provincia. Non accenna a placarsi l'ondata di caldo che sta colpendo la Sicilia con temperature anche superiori ai 40 gradi. Domani è previsto anche un ulteriore aumento. Per questo i medici forniscono pochi ma semplici consigli per evitare malori e colpi di calore. Ce ne parla sarà. Non accenna ad attenuarsi l'efforte caldo che in questi giorni sta colpendo la Sicilia, soprattutto nelle zone interne e nel Catanese. Le temperature hanno sfiorato i 40 gradi e molto probabilmente, come ci dicono al servizio meteorologico del Sias, per domani è previsto un ulteriore aumento che toccherà anche i 42-43 gradi. Questo a causa dei caldi venti al Nord Africa che hanno colpito in pieno la nostra regione. Dunque armiamoci di pazienza ma anche di buon senso per evitare colpi di calore, considerando che per due giorni non ci sarà calo di temperature. Calo che invece si dovrebbe registrare il fine settimana riportando le temperature nelle medie stagionali. E per prevenire malesseri e problemi cosa possiamo fare? L'abbiamo chiesto a un medico che ci fornisce alcuni ma semplici consigli. Un'alimentazione che non può che essere con molti liquidi, povera di sali perché aumenterebbe il rischio di dispersione di liquidi. È importante mangiare molta frutta, molta verdura, non mangiare cibri piccanti, cibri conservati. È importante l'abbigliamento, non tessuti sintetici che non lasciano traspirare ma semplicemente tessuti di cotone all'antica. Poi è importante non uscire nelle ore più calde del giorno, è noto quali sono le ore più calde del giorno. È importante anche fare attenzione per tutti quei soggetti che assumono farmaci per certi tipi di malattie di tipo neuropessicologico che potrebbe rentare in sinergia con queste ondate di calore. Per cui è importante che chi assume un certo tipo di farmaci importanti si rapporti col proprio medico curante per consigliarsi se mantenere o no quel tipo di farmaco e il dosaggio del farmaco. Comunque è importante dire che l'ASPA ha una rete di interventi sui soggetti fragili in sinergia con la regione siciliana, con il ministero di cui siamo relatori e referenti, oltre che con la società civile, le associazioni, le caserme dei carabinieri, le parrocchie e molti altri enti sul territorio. E' stato predisposto dall'amministrazione comunale di Ragusa un nuovo disciplinare per la ripartizione dei consumi idrici delle utenze condominiali. Il nuovo provvedimento è stato presentato questa mattina nel corso di un incontro con i giornalisti dell'assessore al bilancio Stefano Martorana. Un percorso innovativo per risolvere le criticità rispetto alle morosità del canone idrico nei condomini. L'amministrazione comunale di Ragusa ha predisposto un nuovo disciplinare per la ripartizione dei consumi delle utenze. Il provvedimento è stato illustrato stamani a Palazzo dell'Aquila dall'assessore al bilancio Martorana e dai dirigenti Scrofani e Criscione. Gli amministratori potranno comunicare il criterio di riparto dei singoli condomini entro il 30 settembre, consentendo così al Comune di perseguire i morosi. Sì, abbiamo voluto cambiare le regole per quanto riguarda i consumi idrici, questo perché in tantissimi condomini i contatori sono individuali, sono condominali e quindi spesso diventava difficile riuscire a consentire a tutti di pagare interamente. C'erano ovviamente condomini che pagavano, condomini che non pagavano e questo creava confusione agli amministratori di condominio e soprattutto rabbia in quei condomini che erano in regola con i pagamenti mentre magari i loro vicini di casa non avevano pagato opportunamente. Sarà possibile anche chiedere l'installazione di singoli contatori e di poter usufruire ugualmente del bonus idrico per gli utenti che ne hanno diritto perché hanno un reddito ISEE di circa 6.400 euro. I criteri di riparto saranno definiti dall'assemblea condominiale, quindi se l'assemblea condominiale vorrà decidere per l'installazione dei contatori individuali potrà farlo e quindi ripartirà questi consumi sulla base dei consumi individuali. Viceversa, qualora non fosse possibile l'installazione di contatori individuali per motivi tecnici di varia natura, sarà possibile utilizzare un criterio di riparto in percentuale oppure secondo quote legate proprio alla decisione dell'assemblea condominiale. Tutto è lasciato alla decisione dell'assemblea condominiale che potrà decidere un criterio, quello più opportuno. A noi interessa questa comunicazione, una volta comunicato il dato e il criterio di riparto, il Comune fattura sulla base di questi elementi. Dopo che il sindaco di Vittoria, Giovanni Moscato, non ha voluto rispondere alla denuncia sulla mancata erogazione idrica dell'imprenditrice Roberta Giulia Mezzasalma, il popolo del web si scatena sostenendo proprio la donna. Tra l'altro l'acqua a Vittoria non c'è, Moscato venga a vedere a casa mia e uno dei commenti di Facebook appunto si legge a seguito del post pubblicato dalla stessa imprenditrice. Sentiamo questo servizio realizzato da Marco Scavino. Sono gli stessi cittadini di Vittoria a smentire quanto detto dal sindaco Giovanni Moscato in riferimento al caso dell'acqua. Il disservizio che da mesi mette in ginocchio il centro cittadino Epparino è stato denunciato dall'imprenditrice Roberta Giulia Mezzasalma che con contributi video pubblicati su Facebook ha reso note alla città tutte le sue azioni dalle chiamate agli uffici del comune alle visite al palazzo di città per chiedere conto e ragione di che fine avesse fatto il liquido prezioso. Stanca di dover pagare autobotti private la vittoriese aveva anche inviato un video alla nostra redazione. Il sindaco non aveva voluto rispondere ieri perché diceva che il problema era di una sola persona che stava certamente gonfiando il caso. Ieri Roberta ha condiviso il nostro servizio di risposta di Moscato sulla propria bacheca e a giudicare dai commenti pare proprio che la presa di posizione del primo cittadino di Vittoria non sia piaciuta al popolo del web. Il disservizio idrico non è solo di Roberta sottolinea un utente Facebook a cui si aggiunge un terzo che scrive Roberta io e la mia famiglia presenteremo atto formale domani al comune sei dei nostri un uomo di nome Giuseppe chiede di essere tutti uniti un altro invece scrive messi su una bilancia non se ne salva nemmeno uno il cambiamento dobbiamo farlo noi cittadini poi ancora scorrendo tra i numerosi commenti al post di Roberta si legge è una vergogna sono appena rientrato dalla fontana della pace per prendere un po' d'acqua per poter fare una doccia ed una donna risponde quando ci sei stato si era smaltita la fila quanti rubinetti funzionanti ci sono e già dall'anno scorso che man mano che si sono rotti non li hanno più sistemati insomma il problema dell'acqua Vittoria c'è e Roberta non aveva tutti i torti stando alle numerose condivisioni di pensiero e testimonianze riportate su Facebook tra cui proponiamo quella di Elisabetta caso gonfiato ma perché non viene a vedere lui di persona a me l'acqua non manca ma a quanto pare mezza città e senza nuovi orari per il conferimento della spazzatura scoglitti nel centro storico i rifiuti potranno essere esposti a partire da luna fino alle tre di notte il provvedimento dell'amministrazione comunale comunque è stato accolto complessivamente in modo favorevole dai residenti della frazione balneare noi questa mattina li abbiamo sentiti stiamo parlando della zona del centro storico di scoglitti dove prende insistono i locali e dove è normale che anche i turisti facciano la loro passeggiata così come i residenti vittoresi io penso che sia una questione di civiltà evitare che la gente mentre passeggi faccia gincana tra i vari mastelli o i vari i vari sacchetti alla spazzatura il sindaco di vittoria giovanni moscato è convinto che è necessario seguire l'esempio dei più importanti luoghi di villeggiatura imponendo così per il periodo estivo nuove orari di conferimento della spazzatura nel centro storico di scoglitti i rifiuti potranno essere esposti a partire da luna di notte sino alle tre provvedimento che piace comunque ai residenti è sicuramente un'opportunità perché la gente fino a quell'ora passeggia si prende il gelato è normale che la spazzatura viene messa in quell'orario più tardi possibile e addirittura faccio una proposta che nel lungomare le macchine non dovrebbero passare mai perché le persone non c'è il marciapiede occupato le persone devono camminare sulla strada sì perché secondo me sì perché facendo tardi la sera e poi la gente che passa che i turisti veda una spazzatura prima sì per me è giusto fatta eccezione per qualcuno che lo giudica troppo restrittivo porre la spazzatura da luna alle tre di notte nella frazione di scoglitti nel centro storico è giusto per lei? per me no però secondo me è troppo tardi perché a luna se uno è già a letto si deve alzare per mettere la spazzatura veramente non è giusto nemmeno a vittorio sia né a scoglitti né a vittorio perché non lo so il comune il sindaco perché ha usato questa situazione perché in molti paesi ci sono le isole ecologiche però non lo so certo ora col caldo è impossibile allora per quanto riguarda la spazzatura sinceramente all'amministrazione effettivamente ha fatto passi da gigante sono contentissimo però purtroppo ci sono alcune pecche che magari forse quando all'inizio è stata fatta questa storia della differenziata non si è pensato alle zone periferiche del territorio del nostro territorio perché le zone periferiche del nostro territorio purtroppo sono in piena campagna dove si producono le più svariate sostanze inquinanti quindi si doveva prevedere purtroppo cosa che non è stata fatta il consiglio dei ministri sul proposta del presidente gentiloni ha deliberato ieri lo stato di emergenza per la provincia di ragusa a seguito del nubifraggio del 22 gennaio scorso a darne notizia è l'onorevole nino minardo deputato nazionale che ha seguito sin dall'inizio l'iter della delibera promuovendo l'approvazione al governo nazionale ma anche sollecitando la regione siciliana per lungo tempo si legge nella nota inerte rispetto alle richieste ministeriali nelle prossime ore ha fatto sapere il parlamentare diffonderemo anche il contenuto della delibera le relative previsioni a favore di privati imprese denti pubblici oltre a mantenere l'impegno e lavorare per semplificare le procedure di accesso ad agevolazioni e provvidenze ci fermiamo per una breve pausa torniamo tra poco ancora ben trovati in studio torniamo a parlare ancora della carella aperta modica per la mancata consegna di alcune opere pubbliche dell'amministrazione comunale risponde al consigliere comunale giovanni scucce sconsegnando invece i lavori di riqualificazione della strada vicino san luca il sindaco ignazio abate proprio questa mattina il primo cittadino è andato nei luoghi che saranno interessati dai lavori ieri il consigliere comunale giovanni scucce si è tornato a sottolineare come la strada che si sviluppa tra contrada quartarella e il polo commerciale di modica e che passa dinnanzi alla chiesa di san luca non era stata ancora oggetto di interventi quest'ultimi erano stati promessi per il mese di luglio dal sindaco di modica ignazio abate oggi il primo cittadino risponde e lo fa in modo concreto in effetti oggi infatti sono stati consegnati i lavori della strada che adesso avrà una carreggiata da sei metri e mezzo illuminazione pubblica e qualche piccola area di sosta sarà più sicura ha detto abate che in riferimento ai costi inferiori a 100 mila euro evidenziati dal consigliere scucces risponde faremo un'opera che da 40 anni attende di essere tenuta in considerazione a lavori ultimati ci direte se i 100 mila euro erano pochi e poi continua a rispondere così la strada Fosso Tantillo Pirato oggetto anche di una interrogazione del consigliere scucces diventa realtà il consigliere scucces infatti si era fatto promotore di una raccolta firma una petizione arriva infatti proprio da questa strada una petizione popolare per richiedere che venga inserita nel piano delle opere pubbliche oggi invece la consegna dei lavori sì il consigliere scucces arriva tardi forse perché la doveva realizzare quando è stato assessore al comune di modico è stato consigliere nei decenni passati questa amministrazione ha pianificato con i propri consiglieri con i propri rappresentanti di quartiere gli interventi in tutta la città e quest'opera è stata programmata e sarà realizzata in tempi velocissimi quindi in quest'estate verrà allargata la strada grazie alla cessione a titolo gratuito dei proprietari dei terreni sarà realizzata la pubblica illuminazione sarà realizzata il manto stradale andremo anche a sistemare la parte un po' problematica della piccola rotatore che si trova davanti alla chiesa alla chiesa di san luca e a marina di modica nasce la polemica per i giochi in spiaggia molti bagnanti che lamentano che il loro relax venga compromesso dalle continue pallonate bambini ragazzi ma anche adulti che non rispettano i bagnanti e il loro relax e la denuncia che arriva da un gruppo di bagnanti di marina di modica che in queste settimane ha contattato la nostra redazione per denunciare come nella frazione riverasca modicana in spiaggia si registrino episodi di maleducazione prevalentemente tanti bambini che prendono a calci il pallone poi con conseguenti pallonate in faccia i bagnanti che proprio in quel momento stanno prendendo il sole siamo proprio nella spiaggia di marina di modica per raccogliere la testimonianza dei modicani e non solo per vedere che cosa ne pensino allora io sono da parte dei bambini che è giusto che giocano e anche se disturbono un pochino io invece sono contrario all'uso del vetro in spiaggia visto che ieri ho raccolto tre bottiglie rotte quindi questo è più importante forse evitare la vendita di birra in bottiglia e darla sui bicchieri che no che i bambini giocano a spiaggia beh io innanzitutto mi viene da pensare che sono stato diciamo giovane anch'io e anch'io adesso mi rendo conto col senno del poi di aver magari disturbato la gente che adesso come me invece vuole insomma essere sicuramente più rilassato con i bimbi più piccolini sicuramente il discorso è sempre lo stesso quello che lei ha appena detto è vero potrebbe essere semplicemente risolto differenziando le zone tutto qua facendo la zona relax facendo la zona giochi io sono d'accordo perché è giusto che i ragazzi vivano la loro giornata di mare giocando non possono certo stare sotto l'ombrellone né li possiamo legare ad una sedia né tantomeno leggere un libro che gli farebbe bene io dico che con discrezione si può fare tutto quindi sono d'accordo oppure potrebbe essere anche l'ideale creare uno spazio dove poter giocare ed essere destinato ai giochi in effetti in spiaggia proprio oggi i pochi bambini che giocavano lo facevano con rispetto e non tra gli ombrelloni spesso però sono i ragazzi più grandi a disturbare tra gli ombrelloni a causa di un tiro andato a male ma l'estate è in fondo anche libertà dunque sarebbe impensabile privare i giovani e i meno giovani di godere della spiaggia come meglio credono ovviamente nel rispetto reciproco dunque a questo punto si potrebbe invece pensare di destinare un atto del litorale ad attività oppure di trovare un modo per far coesistere nello stesso luogo entrambe le esigenze l'assessore regionale beni culturali ha inserito con un decreto palazzo la rocca ragusa ibla di proprietà del libero consorzio comunale di ragusa tra i luoghi di cultura siciliani che potranno essere oggetto di progetti di valorizzazione da finanziare tramite la partecipazione bandi per l'operazione a regia sulle risorse del pofer sicilia 2014 e 2020 di concerto con le altre istituzioni ha commentato il commissario d'ario carta bellotta e potendo contare sull'apporto scientifico del professore marco nobile dell'università di palermo possiamo puntare alle presentazioni di più progetti di valorizzazione di quest'immobile che è uno degli esempi più significativi del barocco del sud-est lo zecchino d'oro fa tappa per la prima volta a Scicli dove ieri si è tenuta una delle trenta tappe di selezione per il concorso canoro noi siamo stati al convento del rosario di Scicli che è appunto la sede delle selezioni per raccogliere i commenti dei piccoli concorrenti Giada Giacquinta le tagliatelle di nonna pina e il coccodrillo come fa sono classici intramontabili del repertorio canoro dello zecchino d'oro e che hanno fatto cantare per diverse generazioni bambini di ogni età anche per la sessantesima edizione dello storico concorso canoro questi due brani risultano molto popolari tra i bimbi che partecipano alle selezioni a Scicli la città per la prima volta è sede delle selezioni del noto concorso canoro la cosa che mi ha colpito è questa realtà una realtà che trova un legame diretto con ciò che fa l'antoniano da tantissimo tempo cioè il fatto di regalare un pasto a oltre 120 persone tutti i giorni quotidianamente al convento del rosario di Scicli vengono assistiti circa 65 bambini in condizioni di grande disagio sociale da questo amore che sia l'antoniano che il convento ha per i bambini è nata questa storia che ci vede protagonisti nel senso che abbiamo promosso sul territorio di ragusa le selezioni dello zecchino d'oro di questo territorio per partecipare alla finale di bologna come si sono preparati i bambini in questi giorni c'è stato fermento si c'è stata una grandissima emozione questa volta diventando invece protagonisti non vi posso dire tutte queste prove che abbiamo fatto sono state molto emozionanti però è stato bello vedere cantare bambini che non sempre sorridono vederli cantare con la speranza che un sogno possa diventare realtà perché no di andare anche alla finale di bologna la partecipazione è riservata a bimbi dai tre anni che non hanno compiuto 11 anni nel 2017 per l'audizione rigorosamente a porte chiuse ai bimbi è stato richiesto di cantare una canzone a scelta del repertorio del concorso ciao come ti chiami anastasia quanti anni hai cinque anni cosa canti per le selezioni le tagliatelle di nonna pina il coccodillo come fa e le tagliatelle di nonna pina tu canti spesso negli altri momenti durante il giorno sì le tagliatelle di nonna pina come ti chiami alessia alessia quanti anni hai nove cosa canti per le selezioni le piccole cose belle ciao come ti chiami maia quanti anni hai maia cinque cosa canti per le selezioni le tagliatelle di nonna pina i bambini che supereranno la prima selezione saranno invitati a esibirsi in un'audizione a settembre direttamente all'antoniano di bologna e davvero tutto per questa edizione grazie come sempre per averci seguiti e buon proseguimento grazie 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 grazie